Nei prossimi cinque anni bisogna raddoppiare l'attuale fondo per il servizio sanitario nazionale portandolo a 230 miliardi l'anno. Questa è la condizione irrinunciabile per evitare la privatizzazione e l'analisi del tradizionale rapporto Gimbe sulla salute del servizio sanitario e ce ne parla Gerardo D'Amico. Negli ultimi dieci anni la sanità è stata il bancomat delle difficoltà finanziarie pubbliche. Anchele sono stati sottratti la bellezza di 37 miliardi di euro che vuol dire più di 100 mila posti letto saltati, ospedali chiusi, specializzazioni per i nuovi medici col contagocce. E ora se ne vedono gli effetti, mancano gli specialisti, ci sono 14 mila laureati a bagnomaria non avendo accesso alle borse di studio ma anche livelli essenziali di assistenza mai finanziati, diritti che sono rimasti sulla carta. E per finire un contratto per i medici bloccato da dieci anni. Se poi ci aggiungiamo 21 miliardi e mezzo di sprechi ed inefficienze, secondo Gimbe, il servizio sanitario nazionale, così come lo conosciamo oggi, è destinato rapidamente a capitolare sotto la concorrenza della sanità privata, in cui bisogna pagare, per cui bisogna avere un'assicurazione. Insomma, un balzo di 50 anni all'indietro ai tempi delle mutue. I 114 miliardi di oggi bastano a far galleggiare la nave, dice Gimbe, ma se si vuole garantire agli italiani un servizio al pari della media europea, bisogna arrivare almeno a 230 miliardi entro il 2025. Soldi veri da accantonare, da assegnare, non collegati all'andamento del PIL, cosa che ha fatto infuriare il ministro Grillo, pronta alle dimissioni se i fondi per la sanità pubblica non saranno reali. Per capirci, collegare il finanziamento al PIL vuol dire che, se questo cresce, i soldi ci saranno, ma se rasenta lo zero virgola, addio ad ulteriori finanziamenti. Intanto, nell'incontro tra il ministro Grillo, il ministro Bussetti e i rappresentanti degli universitari al MIUR, è stato stabilito che anche gli specializzanti potranno accedere ai concorsi per la sanità pubblica. Lavoreranno però all'interno della rete formativa. Passiamo alle notizie con...